Io metto un crocchino qui dentro. Vedi che è qua? Come lo prendo? Come lo prendo? Come lo prendo? Si è? Come lo prendo? Te? Te? Si? Te? Si! Prendo il crocchino. Seduto. Noi lo metto qui dentro. E qui è il crocchino. Come lo prendo? Mettiamo un altro così fa più... Ah, i crocchini! Dai, come si prendono? Come si prendono? Dai, dai, dai! Oh! No! E gli altri? Ecco il muso si abbassano! Ah, 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 ah! E questo? Si c'è ancora? Come ci si vede qui? Con la giampa? Bravo! Dai, dai, dai! Si! 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 Molto bravo! C'è ancora? Metti i crocchini? Come si prendono? Come si prendono? Si! Ancora! Dai, dai, dai! Dai che ce la puoi fare, dai! Si! Come si fa? Si! 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 Ok! Un altro? Come si prendono? No, sulla mia mano! Si! Si! Bravo! No, la mia mano!